ancora buona Pasqua per quel che ne rimane cari amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV mi trovo in Valsassina in questo momento località Parlasco sì perché tutti Parlasco e allora Parlasco anch'io ho chiamato Beppe Marotta il direttore per fargli gli auguri di Pasqua e insomma e naturalmente per augurargli in bocca al lupo per questo finale di stagione che si annuncia indubbiamente molto teso molto teso l'ho trovato ottimista però mi ha confessato che è dura ma voglio dire non c'è bisogno che lo dica Marotta no che è dura ce ne siamo resi conto tutti io poi personalmente sono convinto che se se Marotta fosse calciatore ma Marotta non è calciatore probabilmente certi problemi insomma li avremmo già superati da tempo visto che siete sempre ansiosi di parlare di futuro malgrado ci sia un presente che incombe il ben fica mi piace dirlo così eh scusate ma che orecchie per intendere intenda beh col ben fica è dura è dura ma ma insomma dobbiamo per forza in questo momento credo io parlo ai veri interisti perché di quelli che sono pronti a dire che è tutto finito che è un lento incedere verso il patibolo insomma io mi auguro che si sbaglino no tutti quelli che sono sempre a dirti ma io l'avevo detto ma io l'avevo previsto chi se ne frega di te ma anche nel bene io l'avevo detto io l'avevo previsto io purtroppo facendo questo mestiere da 35 anni so benissimo che ne prendi due ci sono tre previsioni diverse invece la mia previsione è che dovremmo assolutamente passare altri momenti duri me lo sento durissimi spero non cominciando proprio da lisbona ma io credo che alla fine alla fine riusciremo riusciremo a raggiungere gli obiettivi cosa intendiamo per obiettivi beh l'obiettivo è la zona champions mi sembra ovvio al momento si è fuori e però bisogna cercare una certa unità ho apprezzato molto magari voi no ma io ho apprezzato molto che lukaku a salerno abbia deciso di scusarsi apertamente ovviamente per il suo rendimento che tra l'altro se poi andiamo a vedere ultimamente è pure l'unico attaccante che segna sì su rigore a parte il gol all'ottantaseisimo di interporto che ci ha portato fin qui ma insomma apprezzato molto che la gente ci metta la faccia devo dire che prova a metterci la faccia anche in zaghi ma in zaghi ormai insomma non è più apprezzato da nessuno viene considerato giustamente giustamente un uomo a fine corsa e devo dire che ho notizie di quotazioni in grande salita per tiago motta ecco se noi oggi avessimo aperto l'uovo di pasqua non avremmo trovato come futuro allenatore dell'inter io sto parlando di oggi di pasqua né conte né murigno né de zerbi ma avremmo trovato sicuramente tiago motta le cui quotazioni sono in ascesa tiago motta ovviamente intelligentemente non firma il rinnovo con il bologna ed è lì molto silenzioso a vedere quello quello che potrà capitare nella sua carriera le esperienze che a tiago motta come allenatore a parte spezia e bologna risalgono alle giovanili del pari saint germain è un ex tripletista mi sembra però che stia tenendo molto bene il bologna al bologna che in questo momento è a ridosso della juventus in classifica nella classifica reale perché poi c'è sempre quello che ti dice che la classifica è quella che si fa lui restituendo i 15 punti il giorno che verranno che verranno restituiti i 15 punti gli daremo corda a questo perché per il momento la classifica dice che avendo perso la juventus con la lazio e avendo vinto il bologna a bergamo è il bologna ad essere a ridosso della juventus e non è la juventus seconda in classifica qui bisogna sempre precisare perché ci sono quelli che vivono nell'universo parallelo e comunque tornando a noi ripeto credo che in questo momento se devo fare una quotazione sul prossimo allenatore dell'inter poi le cose possono cambiare di certo mi sento che in zaghi a fine corsa qualunque sia poi il risultato finale non parliamo naturalmente se non dovesse raggiungere la zona champions ma parliamo volendo essere ottimisti anche del clamoroso superamento del turno nei quarti con il benfica e magari anche del raggiungimento della finale in coppa italia ecco questi questi risultati eventualmente non basterebbero a tiago a simone inzaghi per avere la conferma perché perché alla fine il percorso il percorso è stato troppo accidentato in campionato una volta ti fa la parata o ciò una volta ti sbaglia lukaku davanti alla porta una volta che andreva sbaglia il cross quell'altro piazzato male e prende gol una volta di cui una volta di là ma noi da sempre sappiamo su questo penso che l'abbiate capito anche i più gli uchi l'hanno capito no che l'allenatore è sempre il primo responsabile il capro espiatorio di errori che non fa lui se non magari certamente in qualche sostituzione ma io negli sport di squadra continuo a dirlo sempre considerato maggiormente responsabili coloro che hanno il pallone tra i piedi coloro che che vanno in campo tiago motta a oggi ripeto aprendo l'uovo di pasqua a grandi chance di essere l'allenatore dell'inter non ha ad alto livello parliamoci chiaro alcuna esperienza ma io ve lo dico già ora non a caso quando l'ho visto recentemente a monza era vedere monza sandoria cos'era gennaio insomma qualche mese fa l'ho salutato con con molto piacere e non vorrei aver fatto quel giorno la foto col prossimo allenatore dell'inter non è che non vorrei cioè sarei contento per lui e ve lo dico subito nel caso tiago motta diventasse l'allenatore dell'inter perché oggi onestamente anche sentendo un attimo l'aria in società è l'unico è l'unico progetto francamente credibile tutti gli altri progetti al momento a livello economico non sono assolutamente credibili quindi quindi starò vicino a tiago motta ve lo dico già adesso o all'eventuale altro allenatore che dovesse uscire all'ultimo momento dal cilindro perché per me spiego ovviamente i socialoidi che ogni tanto passano di qui per dire la loro per me voler bene all'intera significa stare vicino a tutti i suoi componenti dal primo all'ultimo anche quando sbagliano sono imbufalito come una bestia per tutto quello che ho visto non c'è bisogno che ve lo dica assolutamente imbufalito però credo che con la parola out vergogna fallimento sia sia un atteggiamento ripeto da divanista che non porta assolutamente a nulla non è che disturbi la squadra e parliamoci chiaro questi scrivono parlano convinti di essere presi in considerazione da qualcuno non li prende in considerazione nessuno però mi piacerebbe insomma che visto che abbiamo deciso che comunque comunque vada a finire al termine di quest'annata l'allenatore va cambiato e ripeto sono d'accordo perché io non ho nessuna intenzione di ripartire ad ottobre al primo pareggio tuta caso proprio con la saleritana per sentirmi dire a ecco in zaghi bisogna mandarlo via un anno fa e infatti quello che ho percepito è che la società farà delle scelte alla fine dispendiose perché bisognerà pagare in zaghi fermo per un anno bisognerà pagare ripeto in zaghi per un anno fermo oltre al nuovo allenatore credo che le scelte della società vadano appunto al di là degli obiettivi al di là dei traguardi più o meno raggiunti se tu hai capito e poi averlo capito per carità di dio dopo due anni che il suo staff lui i suoi match analyst non sono comunque in grado di governare sul lungo periodo una creatura bizzarra e incostante come l'inter è giusto cambiare in ogni caso l'importante però ve lo dico adesso e che non si cominci magari ad ottobre al primo pareggio imprevisto al primo rovescio di tiago motta a dire no era meglio tenere in zaghi so già che lo si dirà è però ecchio se decidiamo di ripartire da zero perché vuol dire ripartire da zero con un nuovo progetto io sarò al fianco di questo progetto vado qui e resto qui insomma ancora qualche ora nella tranquillità dei monti questo silenzio anche un po snervante devo dire e prepariamoci ragazzi per quella che sarà un'autentica battaglia lo stadio da lus a lisbona contro il benfica cercando se è possibile di stare tutti uniti ma oggi questo volevo dirvi visto che siete sempre ansiosi di conoscere il futuro bene se oggi resta aprile un uovo di pasqua l'allenatore dell'inter a oggi sarebbe tiago motta per quanto riguarda l'immediato futuro poi tutto può cambiare naturalmente però vorrei che nella realtà delle cose visto che fino al 4 giugno c'è una certa realtà l'allenatore è simone in zaghi e vorrei insomma che per quanto imbestialiti io sono il più imbestialito probabilmente per quello che ho visto ci stringessimo tutti attorno all'inter accompagnandola se è possibile verso un finale di stagione certamente complicato ma tanto sono tutti pessimisti no tutti sanno già che andrà a finire male permettetemi di distinguermi e di credere che per una volta forse vi sbagliate forse qualche bella sorpresa possiamo averla ancora facciamo saluto ragazzi e buona pasqua a tutti i veri interisti quelli veri e ce ne sono ce ne sono tanti ciao